E' stata una grande vittoria, finalmente ci eravamo impegnati, io ho ancora il mio fantastico braccialetto di Restarting the Future qui, ecco, ci eravamo impegnati proprio come primo passo a creare un intergruppo che si occupasse di criminalità organizzate e di corruzione dentro il Parlamento Europeo. L'intuizione è stata quella di lavorare insieme a Transparency che aveva fatto un suo appello invece sui temi appunto della corruzione e della trasparenza e di dire mettiamo insieme gli sforzi e i parlamentari che avevano preso questi impegni per creare questo intergruppo, con l'aiuto di molti colleghi che hanno firmato in supporto dell'intergruppo e con l'aiuto ovviamente dei gruppi politici che hanno deciso di supportare la Costituzione dell'intergruppo, finalmente l'intergruppo è una realtà. Ora c'è tanto lavoro da fare perché i temi sono moltissimi, noi ci occuperemo di tanti di questi aspetti, dal registro delle lobby alla questione della legislative footprint per così dire, per tracciare come vengono influenzati i procedimenti legislativi nelle istituzioni europee, ai temi che riguardano appunto quello più centrale, la protezione dei whistleblower. Poi abbiamo ad esempio la questione dei beni confiscati, abbiamo avuto una direttiva alla fine della scorsa legislatura che è un grande passo avanti, però non basta, però ci sono parti di quella direttiva che andrebbero rafforzate e soprattutto bisogna vedere l'implementazione a livello statale di questa direttiva che appunto in alcuni casi sarà interessante vedere, se porterà un po' di quella strumentazione italiana che noi abbiamo sviluppato nei nostri anni, purtroppo per fortuna abbiamo la normativa più avanzata su questi temi a livello europeo e cerchiamo di mettere a disposizione, se siamo Unione Europea, anche degli altri Stati membri. Quindi ci sono diverse cose da fare, l'intergruppo servirà da un lato a stimolare il dibattito su questi temi, a far crescere la sensibilità anche tra altri colleghi di altri paesi che magari soprattutto sul tema della criminalità organizzata hanno meno compensato, meno a fondo il fenomeno e poi di spingere insieme per delle proposte concrete, delle proposte forti su tutti questi aspetti. Un'altra cosa importante da dire è che l'intergruppo nasce da una consapevolezza, quella che questi fenomeni sono molto interconnessi tra loro, corruzione, trasparenza e criminalità organizzata. Per fare un esempio, il 70% dei casi di corruzione coinvolge le cosiddette società fantasma, quelle di cui non si sa chi è il beneficiario finale. Su questo, questo Parlamento ha lavorato con una posizione a difesa della trasparenza per dei registri pubblici dei beneficiari finali nel seno della discussione sulla quarta direttiva antiriciclaggio. Per far capire anche quanto sono connesse invece gli altri due temi, caspita, il primo rapporto anticorruzione della Commissione uscito nel 2013 parla di 120 milioni di euro all'anno che noi perdiamo in Unione Europea con la corruzione. E' quasi un bilancio dell'Unione Europea, stiamo parlando di cifre altissime, ma che sia gli introiti della criminalità organizzata tramite i mercati illeciti che abilmente gestisce a livello transnazionale, europeo, oltre i confini degli stati nazionali. Si stima che siano 670 miliardi di euro gli introiti della criminalità organizzata a livello europeo tramite i mercati illeciti in cui riesce a infiltrarsi e che riesce a gestire così bene, con grande dinamismo a livello transnazionale. Il punto è proprio quello, lo si diceva con Don Ciotti il 9 di dicembre proprio in questo Parlamento quando è venuto per la giornata internazionale contro la corruzione e diceva che la mafia si è globalizzata molto in fretta. Allora sarà a noi riuscire a globalizzare gli strumenti di contrasto alla mafia, altrimenti in questa lotta rimarremo sempre un passo indietro. Quindi lo scopo dell'intergruppo è anche un po' questo, far capire che questi sono fenomeni globali, sono fenomeni europei, non sono fenomeni solo italiani o spagnoli o francesi. E per questo è in queste case, in queste istituzioni, che dobbiamo insieme sviluppare degli strumenti di contrasto più efficaci. È un punto fondamentale perché era proprio il punto di contatto maggiore tra i due appelli su cui si sono impegnati tanti parlamentari in campagna elettorale, quello di transparency e quello di restarti in the future libera. Perché è così fondamentale? Beh, perché è evidente che non possiamo stare in un'Europa in cui solo 5 stati membri su 28 hanno una legislazione compiuta di protezione dei whistleblowers, cioè di chi parla, di chi denuncia fatte ad esempio di corruzione. Ed è fondamentale garantire a queste persone canali che siano sicuri ed affidabili di accesso per parlare. Molto spesso poi si tratta anche di fatti in cui è difficile capire a quale amministrazione ci si può rivolgere, a quale apparato dello Stato ci si può rivolgere in modo affidabile, in modo chiaro. Ci sono modelli, ci sono discussioni, ci sono ONG che si sono spese tanto su questi temi. Il nostro lavoro sarà quello di fare al più presto un evento in cui cercare di fare sintesi sulle proposte che sono in campo e poi spingere per una direttiva europea che fissi standard minimi comuni di protezione dei whistleblowers a livello europeo. Beh, bisogna dire che libera in questo è maestra, è evidente che la società civile ha un ruolo fondamentale, non solo di monitoraggio, lasciatemi dire, in caso appunto anche di far emergere quelli che sono fatti corruttivi e anche gravi, ma soprattutto nel fare di queste battaglie comuni, battaglie che sono fatte dal basso, battaglie che coinvolgono la società, che riescono a fare più pressione sulle istituzioni, sui luoghi della politica. Non credo che si possa fare questo tipo di battaglie senza la massima partecipazione della società civile in tutte le sue forme. Veniamo dalla Spredi alla piazza del 21 marzo a Bologna. Quella piazza ha qualcosa da dire su questi temi e sta a chi si occupa di rappresentare appunto i cittadini e le istituzioni, di raccogliere quel forte messaggio e di tradurlo in azione politica altrettanto forte e concreta.